Scatta oggi il coprifuoco imposto dal governo portoghese sul 70% del territorio nazionale per provare a contenere la pandemia. Riguarderà un totale di 121 comuni, tra cui Lisbona e Porto, e sarà in vigore dalle 23 alle 5 nei giorni feriali e dalle 13 alle 5 nei fine settimana. La misura resterà in vigore fino al 23 novembre, anche se il premier Antonio Costa ha già detto che potrebbe essere prorogata se la situazione epidemiologica non migliorerà. Al momento sono oltre 2.500 le persone ricoverate, quasi il doppio rispetto al picco della prima ondata. Di queste, poco meno di 400 si trovano in terapia intensiva. Nel fine settimana la Grecia è entrata nel suo secondo lockdown, che durerà almeno tre settimane. Sarà obbligatorio inviare un SMS a un numero del governo ogni volta che si esce di casa. Sono quasi 47.000 i casi nel paese. A preoccupare è soprattutto il numero crescente di pazienti ricoverati in terapia intensiva, raddoppiato nel giro di un mese. In Svizzera ha superata la soglia dei 10.000 contagi ogni giorno. Per gestire l'emergenza il governo ha mobilitato fino al 31 marzo anche 2.500 militari, che avranno il compito di aiutare gli operatori sanitari nella cura e nel trasporto dei contagiati. I militari saranno dispiegati nei cantoni più colpiti, dove le terapie intensive sono vicine alla saturazione. Assieme alle restrizioni sono tornate anche le proteste. Da Madrid all'Ipsia, da Bucarest a Zagabria. Nel fine settimana ci sono state manifestazioni in tutta Europa contro il giro di vite dei governi. Non siamo soddisfatti delle misure, dice questo ragazzo a Zagabria. Soprattutto l'obbligo di indossare le mascherine. Io lavoro nel settore dell'ospitalità. Non siamo in grado di lavorare normalmente in questo modo. Non c'è nessuna pandemia, la gente ha paura di qualcosa che non esiste. In Italia sei regioni restano in bilico tra la zona gialla e quella arancione. Il verdetto dovrebbe arrivare oggi.